7. Quasi uguale Alcune volte mi sento del tutto estranea e lontana dalle persone che conosco anche da molto tempo. Perché? Commento Nel regno della dualità che vige nella condizione umana è possibile per due ragioni. Primo, perché sei assorbita da un movimento interiore a cui segue poi un cambiamento nel tuo modo di essere. Secondo, perché non hai raggiunto nessun cambiamento interiore e vivi una specie di stagnazione per cui riaffronterai la realtà esterna a te in una maniera quasi uguale a come l'affrontavi prima.